Su Orobi ogni mese trovate la rubrica chilometro zero, Stefania Buscaglian è l'autrice. Buongiorno a tutti, buongiorno Cristina. Bentrovata, nel numero di ottobre celebri il World Pasta Day. Ebbene sì, ebbene sì, celebriamo il World Pasta Day, forse una delle giornate celebrative più golose e più iconiche per il nostro paese, perché insomma la pasta, oltre a essere un alimento assolutamente democratico e che riunisce tutto il mondo, dalla Cina con i suoi ravioli, alla Germania con i famosi spezli, è l'icona dell'Italia, della dieta mediterranea e del made in Italy nel mondo. È una giornata che è stata istituita nel 1995, proprio in occasione del World Pasta Forum, un convegno internazionale istituito da esperti di pasta, produttori di pasta, proprio per sensibilizzare sul valore e sulla cultura di questo alimento. E quindi, insomma, ci sembrava giusto, come dire, agganciarci proprio a questa giornata per parlare della cosa forse più buona del mondo, la pasta. Pasta asciutta, pasta ripiena, tu parli poi in particolare dei Bertù. Ebbene sì, ebbene sì, perché la Lombardia è davvero ricca di formati di pasta fresca, ripieni e non, senza nulla togliere a quelli che sono i nostri meravigliosi casoncelli più iconici, più famosi. C'è questa pasta che è davvero intrigante, è davvero interessante nella sua storia, perché i Bertù sono un formato di pasta tipico della Valseriana, in particolare della zona di Rovetta. E sembra che si cucinassero, si ingiassero già due secoli addietro. Un formato di pasta fatto con una farina integrale, quindi anche più, se vogliamo, sani, buoni per il nostro corpo, ripieni di una golosità assurda, perché abbiamo pasta di salame, il cotechino e poche buova vengono fatte per l'impasto. E che dire di quest'altra pasta, che ha una storia bellissima, perché abbiamo parlato di due secoli addietro e vengono cucinati in occasione della festa della Madonna di San Lorenzo, proprio a Rovetta. Questa pasta fu, questa pasta, questa festa fu istituita dal Papa. Il Papa che celebrò questa giornata per il ritorno dei cristiani dalla battaglia di Lepanto del 1571, se non erro. Quindi ogni volta parlare di cibo e parlare anche di, ovviamente, cultura e di storia. Assolutamente. Io credo in generale proprio che si capisca tantissimo di una popolazione, di un popolo proprio attraverso quello che mangia, come lo mangia. E il nostro territorio ha una biodiversità straordinaria a livello di alimenti che siano provenienti dalla terra, piuttosto che il derivato del lavoro dei nostri pastori, dei nostri agricoltori, dei nostri produttori. La Lombardia è straordinaria da questo punto di vista. Già dal titolo appunto della rubrica chilometro zero c'è ovviamente l'attenzione a quello che nasce e che viene coltivato vicino a noi. Sì, c'è un tentativo da parte nostra, da parte di Eorobi, proprio di sensibilizzare a un consumo consapevole. Quindi che parta dalla stagionalità degli alimenti e che arrivi proprio alla scelta di una filiera cortissima in modo da stimolare sempre di più quella anche che è l'economia del nostro territorio. Poi ci sono sempre le ricette che tu ovviamente per prima realizzi. Ah certo, io ogni ricetta la provo, la provo, la testo e infatti sono ricette fattibilissime da tutti. Spesso sono mie, spesso sono di chef, attenti a quello che è appunto la cultura del nostro territorio. Noi partiamo sempre da una realtà, da un prodotto proprio e ci facciamo guidare, ci facciamo ispirare per una ricetta buonissima in secondo stagione. Grazie Stefania per essere stata con noi. Grazie Cristina e grazie a voi tutti. Grazie a tutti.